PIRLO BASSO E TESO LA GIRATA E' MIRKO VUCINIC D'INTERNO SINISTRO VUCINIC Trova il gol dell'1-0 Tenta il colpo di testa Marchisio Per favorire ancora Giaccherini Traversione Giaccherini VUCINIC Sparco Borriello Ancora Borriello 2-0 Licksteiner Chiede palla in verticale VUCINIC Arriva il pallone Salva Fontana Arturo Final 3-0 PIRLO PIRLO Ecco il corridoio trovato per l'inserimento di Giaccherini contro Lisuzzo Giaccherini lo sfida, lo salta La risposta di Fontana Mirko FUCINIC FUCINIC 4-0 Va PIRLO Polo di Pirlo E l'arbitro dice che può bastare Manda tutti sotto la doccia Juventus batte Novara 4-0 Rimane invariato il vantaggio rispetto al Milan In testa la classifica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti